Ma le vicende di questi tempi dimostrano che o tra noi europei che abbiamo la stessa moneta c'è una condivisione di politiche, di strategie, una solidarietà tra di noi oppure il resto del mondo non ci crede, oppure non siamo in grado di affrontare la competitività globale nel modo giusto. Alcune cose vanno bene, altre vanno male. Se vedo il corso dell'euro a 1,37 sul dollaro questa è una pessima notizia per la nostra competitività. Se vedo il riavvicinarsi degli spread tra i diversi tassi di interesse dei singoli paesi dell'Unione Europea questa è una buona notizia, segno che dei passi avanti si stanno facendo. Quindi io non ho dubbi che le quattro unioni debbano rimanere il nostro faro. L'Unione bancaria oggi arriva a una chiusura importante e è avvenuto prima di quanto potessimo immaginare. Bisognerà lavorare adesso sull'Unione fiscale, l'Unione economica e soprattutto sull'Unione politica che rappresenta sicuramente il grande altro passo che abbiamo davanti. Sono David Carretta di Radio Radicale. Due domande, la prima proprio a proposito dell'Unione bancaria. Lei dice se l'avessimo avuta 3-4 anni fa non avremmo avuto tutte le ripercussioni che abbiamo oggi. Il commissario Almunia oggi ha pubblicato dei dati. 413 miliardi di ricapitalizzazioni pubbliche delle banche in 4 anni. Nel 2025 avremo un fondo di 60 miliardi. Il bicchiere non rischia di essere molto poco pieno. Seconda domanda, la questione del corso del valore dell'euro sul dollaro. Pensa di fare un'iniziativa a livello europeo su questo? Ne ha discusso. E se per caso avete parlato anche di Ucraina? Sul tema del corso dell'euro magari avessimo gli strumenti in mano per riuscire a intervenire rapidamente. È molto complesso e quindi non voglio su questo alzare aspettative. Sull'Ucraina abbiamo discusso abbastanza lungamente. La preoccupazione è evidente a tutti. Abbiamo riconfermato e io riconfermo anche qui la necessità di non lasciare, di non chiudere la porta, di non mollare il filo di una relazione che rimane molto importante con l'Ucraina. Quindi ritengo che questo sia importante, un segnale comunque che esce dal Consiglio europeo in questa direzione. Lei ha ragione sulle cifre. È ovvio che è un fondo di 55 miliardi, 60 miliardi. Però è fondamentale il ruolo di prevenzione che a mio avviso questa iniziativa svolge. Un ruolo di prevenzione che è fondamentale, essenziale. È un modo per obbligare il sistema bancario a risistemarsi in tempo in modo da evitare appunto quello che è accaduto. Tutte quelle ricapitalizzazioni che negli altri paesi europei, non in Italia, sono state obbligate e che hanno pagato i taxpayers nazionali e in alcuni casi anche i risparmiatori di alcuni paesi sono sicuramente stato un danno pesantissimo a cifre enormi. Io penso che con l'Unione bancaria oggi siamo in grado di lasciarci dietro le spalle una situazione così complicata. Marco Zattrina, Stampa Presidente. Parlando del rating, della variazione del rating di oggi, lei ha sottolineato che si tratta di un segnale da non sottovalutare. Vorrei sapere se nel merito e nel metodo lei ritiene che questo downgrading sia una cosa che il bilancio europeo merita o per farla più breve se non le pare che sia più politico che tecnico. Grazie. E oggi, anche se le due cose non erano collegate, ma questi downgrading arrivano sempre con un tempismo non casuale, mettiamola così. Oggi però le risposte che l'Europa dà sono risposte che vanno nella giusta direzione. Quindi io penso che questa politica dei passi determinati, uno per volta, non quattro alla volta, quattro gradini alla volta ci si casca e ci si fa del male. Un gradino per volta, però uno dopo l'altro, senza fermarsi, arretrare. È la logica con la quale si esce dalla crisi. Chi vuole salire le scale quattro alla volta casca e si fa del male. E io, se penso alla mia responsabilità, ho la responsabilità di un Paese e quindi penso che sia importante salire i gradini uno per volta perché ritengo che sia il peso che il Paese oggi può sopportare. Sono le scelte, i passi che possono avvenire e d'altronde i dati macroeconomici, dai dati della crescita di questo trimestre e del prossimo trimestre, i dati dei tassi di interesse e dello spread, ci dimostrano che il metodo del passo per volta è un metodo che certo agli impazienti non piace, ma è l'unico metodo col quale si può uscire tutti insieme da questa drammatica vicenda di crisi nella quale ci siamo trovati. Grazie Grazie